E' stata una grande festa per tutta la comunità annasense l'inaugurazione del Teatro Vittorio Alfieri che ha riaperto i battenti ieri dopo circa 60 anni di chiusura. Teatro che fu inaugurato nel 1885 e che venne chiuso sul finire degli anni 50 quando la sua funzione si esaurì con l'apertura dell'attuale Cine Auditorium e l'arrivo delle prime televisioni nelle case dei nasitani. L'Alfieri è un teatro che riapre dopo sette anni di lavori effettuati dall'amministrazione comunale con una programmazione di respiro europeo. La direzione artistica è infatti stata affidata a Matteo Bavera di origine nasitane e storico direttore artistico del Teatro Garibaldi di Palermo che ha proposto un progetto artistico incentrato sulla valorizzazione di naso. Per riportare la gente ad amare e a frequentare il teatro. La questione del pubblico è al primo posto per noi. Lo spettacolo viene dopo. Il pubblico è la cosa più importante. Non esiste il teatro senza il pubblico. Ma mi aspetto che la gente si innamori di questo posto, si innamori degli spettacoli che facciamo. Mi aspetto di incontrarli per strada, bere un caffè con loro. Mi aspetto anche che mi dicano ma forse quello spettacolo non andava bene. Il Teatro Alfieri tornerà dunque a svolgere la sua funzione culturale di aggregatore sociale. Ieri la prima con il Pozzo dei Pazzi di Franco Scaldati, mentre stasera e domani appuntamento con la lettura integrale pubblica del Gattopardo di Giuseppe Tomasi di Lampedusa. Questa imponente e maestosa opera architettonica ecco che recupera quelle che sono il suo bagaglio culturale di una città che nel tempo gli ha conferito il prestigio di insignirsi addirittura del titolo di città proprio in ragione della pluralità di beni e di servizi di cui godeva questo centro rispetto a tanti altri viciniori.